Musica Amici carissimi dell'Umbria Verde di Giara, salve a tutti. In mia compagnia ho il Presidente del Consorzio Tutela IGP Prosciutto di Norcia, Pietro Bellini. 2016, sisma. 2017, progettazione della nuova campagna di comunicazione. 2018, definitiva divulgazione del nuovo marchio IGP Prosciutto di Norcia. Presidente, bilancio consuntivo del progetto di promozione finanziato dal PSR Regione Umbria. Sì, per noi è stato un appuntamento importante, un anno importante. Abbiamo in questo periodo messo le gambe a un consorzio che si era organizzato solo per guardare quelle che sono le linee di produzione e tutto il mondo del prosciutto ma non aveva attivato quei meccanismi per poterle farsi conoscere sul territorio. Quindi abbiamo capito fin da qualche anno indietro che era necessario fare questa operazione e in questo mandato siamo riusciti a mettere le gambe a questo progetto grazie proprio ai finanziamenti del PSR che abbiamo colto immediatamente per poter dare una sede al consorzio, per poter mettere in piedi in campo un progetto di promozione che ha dato già i suoi frutti e molto importante per noi. Quindi con questo progetto cercheremo di avviare poi una nuova fase, quella la seconda, con un progetto che stiamo mettendo in piedi per poter proseguire ancora su questa strada. Presidente, obiettivi per il 2019? Gli obiettivi come dicevo ora è consolidare la posizione a livello di mercato perché questo è importante e quest'anno abbiamo avuto un incremento forse un po' sopra le righe quindi i soci sono un po' preoccupati di questa produzione così però sono convinto che invece noi dobbiamo proseguire su questa strada e quindi l'aiuto è mettendo in piedi un progetto di promozione continuo per i prossimi anni. Benissimo, ringraziamo il presidente del Consorzio Tutela e GP Prosciutto di Norcia, Pietro Bellini.